Maria modello di vita impegnata per la costruzione di un mondo migliore un monte di pace di serenità e anche di lavoro perché senza il lavoro non si va avanti quindi questa è un po' la tematica di oggi ma in che modo si può costruire un mondo migliore Gesù nel Vangelo dice da un'espressione che è molto significativa e dice chi rimane in me e io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete fare nulla allora io ho detto che ognuno si deve impegnare per costruire un mondo migliore ma perché questo sia fruttuoso è necessario che noi ci vogliamo a Cristo Signore perché soltanto agendo insieme a Lui le nostre opere possono veramente portare frutto duratura e in che modo possiamo impegnarci ecco costruendo il senso della giustizia so che voi già dite ma questo noi già lo sappiamo e io lo ripeto lo ripeto perché esercitare il senso della giustizia è fondamentale per un modo di vivere sereno e gioioso e poi oltre l'onestà il rispetto della persona il rispetto delle cose quindi sono tutti elementi che servono a portare avanti una costruzione meravigliosa i laici sono uniti a Cristo quindi quanto esercitano le virtù che Cristo ha portato su questa terra Maria la madre di Gesù mentre viveva su questa terra aveva le solite occupazioni familiari e quindi preoccupazione di lavoro per il figlio suo, per Giuseppe non è che Giuseppe tenesse una grande azienda di falegnameria e quindi teneva operai a sua disposizione no era lui che doveva trovarsi il lavoro e quel tempo lavoro non ce n'era e non ce n'era per nessuno e quindi la preoccupazione di Maria di trovare un lavoro per Giuseppe e per il figlio suo Maria aveva a Nazareth una vita comune come tutte le altre donne e in che cosa? va a dare ai figli lavare la biancheria, pestare il grano nel mortaio perché non c'erano i mulini a quei tempi eppure bisognava sparinare il grano per fare la focaccia e quindi allora raccogliere la legna nella campagna per accendere il fuoco tutti semplici gesti ma di una quotidianità e con amore e con gioia questa è la testimonianza di Maria Maria aveva una vita comune a tutte le donne di quel tempo cercare quindi il lavoro per Giuseppe era una cosa fondamentale noi ci meravigliamo oggi che ci sono tante mamme, tante papà che insistono per avere il lavoro per i figli è comprensibile, è comprensibile però chi è che deve dare il lavoro? e quindi qui scatta tutto un problema sociale che non possiamo affrontare noi in questi pochi minuti oggi le donne vivono in un modo molto differente come ai tempi della Madonna semplici lavori ai tempi della Madonna, impegni molto semplici e oggi non è sufficiente avere un vocabolario per parlare delle professioni femminili abbiamo la professoressa, abbiamo la donna medico, abbiamo l'infermiera, abbiamo la donna politica abbiamo la donna poliziotto quindi è molto arriegato il mondo di oggi rispetto al lavoro delle donne del tempo della Madonna negli anni che trascorsero Gesù, Giuseppe, Maria a Nazareth Gesù cresceva sia sul piano fisico sia su quello oggettivo e intellettivo anche pur essendo Dio le leggi della natura conservavano in lui tutto il valore dello sviluppo di ogni uomo preghiera, amore, vigilanza, lavoro, carità furono le sollecitudini vissute da Maria e Giuseppe frutti furono tanto buoni tanto è vero che il Vancello dice Gesù stava loro sottomesso beh con i giovani moderni c'è una grande differenza Gesù stava loro sottomesso e quindi i frutti si sono visti che cresceva in sapienza e in virtù e in età Padre Pio fu lo stesso ragazzo attento e responsabile gioioso e amante della preghiera e così anche per Padre Pio possiamo dire cresceva in sapienza correzione umana e santità di vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti